Sembra che i primi della prossima settimana debba essere fissata presso la sede del Centro Giovani Calciatori di Alegge una conferenza stampa per illustrare i programmi relativi alla prossima stagione di Hockey su pista, che dopo il divorzio da Massimo Mariotti dovrebbe vedere come suo successore sulla panchina Alessandro Bertolucci, che avrebbe come collaboratore il fratello Mirko, con il quale già gestiscono la leva hockey, organizzando anche campus estivi da diversi anni con buoni risultati. È probabile il rientro dopo il prestito all'SPV Viareggio dei giocatori Denite, Muglia e Brunelli, che sono di proprietà della società bianconera. Da verificare se ci sarà anche qualche nuovo innesto per la rosa della prossima stagione. Intanto una voce di questi giorni sembra che Fernando Montigel, giocatore che sembrava destinato ad andare a Valdagno, che potrebbe invece rimanere addirittura con la maglia bianconera del Centro Giovani Calciatori. Il giocatore ha trovato un lavoro in Argentina e potrebbe in qualche modo alternare le due attività. Vedremo di saperne di più se lunedì oppure i primi giorni della prossima settimana sarà fissata questa conferenza stampa del Centro Giovani Calciatori, quando verranno illustrati, come detto, i programmi futuri.